Non è che la grande guerra sia stata una bella guerra. È stata una tragedia come tutte le guerre. L'Italia ha visto i suoi figli mandati al massacro, magari per conquistare montagnole che non avevano nemmeno un nome, contrassegnate solo da un numero. Tuttavia il solutto è stato elaborato nella cultura civica, documentata nei migliaia di monumenti caduti, che cospargono paesi e città, e nell'immagine di un soldato senza nome, il milito e ignoto, ogni paese celebra i suoi caduti. Anche in Isola del Cantone, nella piazza davanti alla comune, vi è un monumento dedicato agli isolesi, che non hanno più fatto ritorno. Mi chiamo Giuseppe San Giacomo, classe 1881. Sono il più vecchio dei caduti isolesi. La mia famiglia abitava a San Lazzaro. Erano tempi difficili, così come altri giovani della valle decisi di emigrare in Argentina. Erano i primi del Novecento. Quanta fatica, quanto lavoro. Con gli anni la nostalgia era sempre più forte. Così, nel 1914, tornai in Italia e la gioia di rivedere i miei, gli amici e il mio paese fu immensa. Pensata alla felicità di mia madre nel riabbracciarmi dopo tanto tempo, non si stancava mai di ascoltare i miei racconti sulla vita in Argentina. Pochi giorni prima di ripartire per l'Argentina, con alcuni amici, andai in una locanda a Ponte Decimo. Lì mi rubarono il portafoglio. Non sarebbe stato un problema se al suo interno non ci fosse stato anche il mio passaporto. Senza documenti non potei ripartire e fui costretto a rimanere in Italia in attesa di averne di nuovi. Proprio in quei giorni l'Italia entrò in guerra e fu chiamato alle armi. La sorella di Giuseppe ebbe il triste presentimento della sua morte. Era messa. Al momento dell'Eucaristia chiese al sacerdote se quella comunione poteva servire per l'anima del fratello, dal momento che non serviva più per salvarlo. Alcuni giorni dopo, la famiglia ricevette la triste notizia. Morì e ricordo una pronipote. Come dissero all'epoca i suoi compagni per un colpo di baionetta ricevuto in un assalto. Recentemente abbiamo fatto delle ricerche e il Ministero della Difesa ci ha risposto che è morto nell'ospedale di Staroselo ed è sepporto al Sacrario di Caporetto al numero 1918. Isola ricordò tutti i suoi caduti con cerimonie civili e religiose il 15 dicembre 1918. In un opuscolo stampato dopo la guerra, così furono descritte. Sua fusa dimestizia nelle grigie giornate di dicembre apparve l'alba del 15, giorno destinato alla commemorazione dei nostri prodicaduti sul campo dell'onore. Un apposito manifesto pubblicato dal Municipio e dalla Fabriceria aveva rivolto un cortese invito alla popolazione perché accorresse a dare il doveroso tributo di compianto e di preci ai nostri valorosi. Alla messa cerimonia presero parte tutte le autorità, il Sindaco e la Giunta, la Fabriceria, le opere pie, i bambini dell'asilo infantile, le congregazioni religiose maschile e femminili. O cari morti, siate gli ultimi che la guerra strappa al lavoro, alla famiglia, alla patria. Siate gli ultimi che bagnate la terra non dell'onorato sudore della fronte, ma del sangue sgorgato dalle membra squarciate. Siate gli ultimi che la guerra costringe a dormire l'ultimo sonno lungi della terra natia. Addio, purtroppo non furono gli ultimi. Grazie. Grazie.